due senza pesi leggeri maschile vede solo ed esclusivamente sul podio fiamme oro ancora una volta i pesi leggeri delle fiamme oro vanno e colpiscono a segno ma in modo particolare armando dell'aquila e luca de maria con il loro due senza che ancora una volta è protagonista armando una imbarcazione che oramai ti ha visto protagonista più e più volte ma anche una soddisfazione che quella di battere i tuoi compagni di squadra come è stata questa gara beh sapevamo che la gara sarebbe stata difficile abbiamo avuto sia avversari ma compagni di società contro di alto calibro loro sono olimpici e abbiamo anche fabrizio irca che sono due ottimi atleti quindi ci stava tutta la vittoria e come ci vuole stare anche una sconfitta sono siamo molto soddisfatti perché abbiamo lavorato su questa barca il giusto veniamo da un periodo un po negativo dovuto a un po di infortuni luca è stato male abbiamo lavorato poco diciamo però siamo soddisfatti quindi va bene così luca avete lavorato poco ma il risultato è subito arrivato e poi vabbè ovviamente voi in due senza siete un po dei pionieri possiamo dire così questo affiatamento continua questo matrimonio in due senza continua com'è continuare questa barca no è molto bello ci troviamo bene assieme anche tecnicamente e che dire ha detto tutto lui abbiamo lavorato poco ma bene sui nostri punti sui nostri difetti e ci siamo riusciti possiamo dire a tutti i tifosi che in due senza vi vedremo anche in campo internazionale ma spero di sì questa sarà una decisione della federazione però spero che tenga in considerazione questa gara questa gara deve essere tenuta in considerazione ragazzi ovviamente complimenti ancora grazie